Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati, ben ritrovati cari fratelli e sorelle. Siamo all'alba di un nuovo anno, un anno, quello del 2020, che in effetti a chi ha gli occhi in fronte, a chi il Signore dà la grazia di rendersi conto dell'immenso dramma che si sta consumando nel mondo, e nella Chiesa, ma colui a cui il Signore fa la grazia di rendersi conto che non è semplicemente un caos da punto di vista così esteriore, ma c'è un mistero di iniquità che agisce e che chiaramente non è ancora completo e quindi deve arrivare al suo termine. Allora, chi ha questa luce è sicuramente addolorato, è trafitto, è trapassato da una lama affilata perché si rende conto che c'è un martirio da vivere. Quindi io vorrei dire a tutti, vorrei dire innanzitutto a me, perché questo 2020 possa essere un anno all'insegna di una vita cristiana sempre più impegnata, dobbiamo entrare nell'ottica che il 2020 sarà senz'altro un anno di martirio. Il 2020 sarà allo stesso tempo un anno in cui poter radicalizzare la nostra convinzione nel fatto che noi cristiani di questi tempi abbiamo una vocazione specifica che si differenzia dalla vocazione delle generazioni passate. La riflessione che quindi voglio portare verte su questi due punti. Innanzitutto, la vocazione della nostra epoca, che non è solo di questo 2020, chiaro, ma questo nuovo anno mi dà la possibilità di riprendere questo argomento a cui, diciamo, accennò in maniera veramente molto bella il professor Roberto De Mattei in un articolo scritto qualche mese fa e dall'altro un anno in cui andrà sempre a infittirsi e, diciamo, questa situazione di dolorosa persecuzione morale e anche fisica, come in tante parti del mondo e chissà che, insomma, non ci siano dei... Noi del resto abbiamo lasciato l'anno vecchio con tutta una serie di episodi molto significativi come questi atti vandalici compiuti su diversi presepi, diverse natività in Italia e non solo, come atti di affronto pubblici, ad esempio, di un personaggio come Saviano che dall'alto della sua cattedra del nulla pontifica che il dogma cattolico non è tale veramente usando delle espressioni, delle immagini blasfeme e profondamente inadeguate anche al rispetto, diciamo, di una sensibilità indipendentemente dalla fede quindi questi sono solamente alcuni accenni per dire che abbiamo lasciato il 2019 all'insegna, purtroppo, di eventi dolorosi come anche attacchi alle chiese nei paesi di persecuzione questi poveri confratelli, fratelli e sorelle cristiane che non possono fare un Natale in santa pace insomma, è inutile illuderci non ci dobbiamo illudere perché se ci illudiamo ci troveremo impreparati davanti alla grande prova che già stiamo vivendo ma che non è ancora arrivato al suo apice se invece noi entriamo nell'ottica che quest'anno sarà un anno di testimonianze e di martirio a cui quindi dobbiamo essere pronti con tutto quel bagaglio di responsabilità e quel bagaglio, chiaramente, di ausilio spirituale che viene dalla preghiera che viene dall'offerta che viene dall'esercizio delle virtù che viene dai sacramenti che viene dalla forte devozione alla Madonna possibilmente la consacrazione capite? se noi facciamo questo la grazia non può mancarci e la grazia di Dio opera nel momento in cui serve non prima quindi magari se sentiamo, percepiamo un po' di paura ebbè è normale insomma, davanti a questo scenario è quello che potrebbe succedere è normale la paura non ci impedisce però di portare a termine questa nostra vocazione al martirio perché è la vocazione di questi tempi qualora noi ci prepariamo bene per poi ricevere la grazia quando Dio vorrà quando sarà il momento fedele al mio proposito di lasciare dei messaggi e di fare comunque delle brevi catechesi non troppo lunghe io su questo discorso del martirio vorrei prendere due diciamo due testimonianze due elementi che ci possono aiutare a riflettere innanzitutto al di là di tutte le doverose anche polemiche circa la completezza o meno del testo del terzo segreto di Fatima pubblicato nel 2000 dal Vaticano io mi sono fatto portavoce chiaramente della della tesi che vede incompleto diciamo incompleta questa pubblicazione che manca la parte più drammatica va bene in ogni caso quella visione simbolica che è stata pubblicata ci consegna ancora oggi nel 2020 non solo quando fu trasmessa quando fu pubblicato un messaggio di grande attualità si legge nel testo vedemmo su Lucia che scrive in una luce immensa che è Dio qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti un vescovo vestito di bianco abbiamo avuto il presentimento che fosse il santo padre vari altri vescovi sacerdoti religiosi e religiose salire una montagna ripida in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la corteccia il santo padre prima di arrivarvi attraverso una grande città mezza e rovina e mezzo tremulo con passo vacillante afflitto di dolore e di pena pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino giunto alla cima del monte prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i vescovi i sacerdoti religiosi e religiose e varie persone secolari uomini e donne di varie classi e posizioni sotto i due bracci della croce c'erano due angeli ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinano a Dio il cardinal Josef Ratzing allora prefetto della CDF intervenne diciamo con un commento teologico su questo testo poi dovette giustamente cambiare un po' posizione sono eufemico dicendo un po' posizione da papa perché la versione che diede del segreto di fatti come qualcosa che riguarda il passato invece fu da lui stesso smentita quando nel 2010 Pellegrino a Fatima disse il segreto di Fatima ci sta avanti e parlò del terrificante peccato nella chiesa e che nel segreto di Fatima si scopre anche questo significato e questo messaggio cioè che le persecuzioni più grandi vengono da dentro non da fuori insomma questo è un altro discorso però in ogni caso quel commento che lasciò nel 2000 fu un commento pieno di spunti teologici così Cardinal Ratzinger commentava la sezione sul sangue dei martiri raccolto dagli innaffiatoi di cristallo portati dagli angeli è una visione consolante dice che vuole rendere permeabile alla potenza risanatrice di Dio una storia di sangue e lacrime angeli raccolgono sotto i bracci della croce il sangue dei martiri e irrigano così le anime che si avvicinano a Dio il sangue di Cristo e il sangue dei martiri vengono qui considerati insieme attenzione amici il sangue dei martiri scorre dalle braccia della croce il loro martiro si compie in solidarietà con la passione di Cristo diventa una cosa sola con essa essi completano a favore del corpo di Cristo ciò che ancora manca le sue sofferenze la loro vita è divenuta essa stessa eucaristica inserita nel mistero del chicco di grano che muore e diventa fecondo il sangue dei martiri è seme di cristiani ha detto Tertulliano come dalla morte di Cristo dal suo costato aperto è nata la Chiesa così la morte dei testimoni è feconda per la vita futura della Chiesa la visione della terza parte del segreto così angustiante al suo inizio si conclude quindi con una immagine di speranza nessuna sofferenza è vana è proprio una Chiesa sofferente una Chiesa dei martiri divene segno indicatore per la ricerca di Dio da parte dell'uomo nelle amorose mani di Dio non sono accolti soltanto i sofferenti come Lazzaro che trovò la grande consolazione e misteriosamente rappresenta Cristo che vuole divenire per noi il povero Lazzaro vi è qualcosa di più dalla sofferenza dei testimoni deriva una forza di purificazione di rinnovamento attenzione qui a questa espressione deriva dalla sofferenza dei testimoni una forza di purificazione di rinnovamento perché essa è attualizzazione della stessa sofferenza di Cristo e trasmette nel presente la sua efficacia salvifica mi sembra che il testo del segreto e questo commento diano bene il la veramente la nota di ingresso di questo 2020 cioè innanzitutto vorrei sottolineare il discorso che una chiesa sofferente una chiesa dei martiri è veramente la risposta a diciamo tutti i problemi che si vivono questo lo diceva lo diceva recentemente il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban quando una conferenza dello scorso fine novembre ricordava con diciamo con orgoglio il fatto che l'Ungheria sia l'unico paese dell'Europa ad avere un ministero un ministero che si occupa dei cristiani perseguitati nel mondo del sostegno ai cristiani perseguitati nel mondo e l'Ungheria invia non pochi fondi a diversi paesi e diversi cristiani nei paesi perseguitati e così Orban motivava la sua scelta di preoccuparsi anche dei cristiani lo motivava dicendo che il bene che oggi noi facciamo a loro ci ritornerà cioè ci ritorna con l'esempio e con la sofferenza i cristiani martirizzati nel mondo la chiesa sofferente la chiesa del silenzio è la vera chiesa cioè è la chiesa che veramente con una forza di rinnovamento come dice cardinal Ratzinger una forza di purificazione entra in azione e risana queste membra tumorali diciamo afflitte malate gravemente ammalate della chiesa di Cristo se il martirio se la testimonianza del sangue che sia rosso che sia bianco cioè la testimonianza della sofferenza morale che qui stiamo vivendo in Europa si diciamo protrae con gente sempre più convinta che si pone su questa scia allora c'è speranza veramente per la chiesa questa è una prima considerazione la seconda considerazione quindi valorizzare veramente la via del martirio oggi ma veramente come l'unica che possa risolvere questo problema cioè sarà come un atto di consegna cioè Dio con un suo intervento miracoloso onnipotente risanerà risolleverà restaurerà la chiesa restaurerà il mondo è profetizzato non si può dubitare troppe profezie troppo solide le avisaie profetiche che ci indicano questo momento di restaurazione nello stesso tempo c'è una dinamica Dio può fare tutto da solo ma non si vuole non vuole fare tutto da solo vuole servirsi di noi ma prima di servirsi di noi si serve di Maria Santissima e lei è la regina del nostro tempo i tempi di Maria i giusti di questi tempi col loro martirio consegnano questo potere diciamo trasformante nelle mani della regina che ci viene a chiamare come suoi apostoli apostoli di Maria degli ultimi tempi quindi più siamo consagrati a lei e più offriamo il nostro martirio più siamo efficaci da questo punto di vista proprio in vista del trionfo del cuore immacolato consegnato questo potere nelle sue mani lei lo consegna a Cristo e poi sarà Cristo con un atto della sua onnipotenza a diciamo risollevare le sorti ma tutto parte da questo potere di purificazione ecco di cui parla il cardinale Ratzinger nel commento questo potere trasformante del martirio e quindi non può questo 2020 non essere un anno di martirio perché Dio vuole fare presto vuole fare più presto di noi cioè però noi dobbiamo dare la nostra risposta affrettare il trionfo un'espressione bella potrebbe quasi dare il nome a una saga di fiabbe ecco ma invece non è così affrettare il trionfo comporta vivere il martirio approfondire il martirio che non ci andiamo guardate a cercare noi viene da solo viene da solo e prepariamoci perché Gesù Cristo la Chiesa la Madonna i Santi Cristiani sono sempre più odiati e più il demonio è padrone delle coscienze padrone dei cuori padrone delle menti più aizzerà come fece con Erode con Erode aizzò delle delle pulsioni diciamo malvagie nell'empio re e fece arrivare insomma lo fece arrivare alla strage così il demonio in questo 2020 chiaramente non farà che aizzare ancora di più queste malvagie pulsioni degli uomini che stanno in suo potere e accrescerà odio accrescerà violenza accrescerà quindi dobbiamo star pronti cari fratelli e sorelle questo non per spaventarvi assolutamente no perché come vi dicevo c'è anche un altro aspetto di questo 2020 che è una vocazione specifica allora io adesso prendo questo articolo pubblicato il 7 novembre 2018 dal professor Roberto De Mattei in cui parla della vocazione sia degli individui che delle epoche così spiega nella parte più pregnante del suo articolo ci sono le vocazioni dei singoli ci sono le vocazioni delle famiglie che non sono solo quelle naturali ma sono anche le famiglie spirituali con i loro carismi ci sono le vocazioni dei popoli di cui ha tanto spesso parlato il professor Plinio Correa De Oliveira ogni nazione ha una vocazione specifica che è il ruolo che la provvidenza le affida nella storia ma noi non nasciamo solo all'interno di una famiglia e di un popolo bello questo punto amici viviamo all'interno di un'epoca storica poiché anche la storia è una creatura di Dio a ogni epoca storica Dio chiede qualcosa di diverso ogni epoca storica ha la sua vocazione la vocazione dominante dei primi secoli della chiesa fu la disponibilità al martirio esiste una vocazione del ventunesimo secolo all'interno della quale trovare la nostra singola vocazione perché appunto scusate questa glossa in un certo senso la vocazione dei singoli si inserisce all'interno di questa vocazione più ampia che quella della nostra epoca e quindi la vocazione perché la vocazione del singolo possa diciamo essere compresa interpretata al meglio bisogna capire questa vocazione più universale dunque la vocazione della nostra epoca c'è è quella di corrispondere al desiderio del cielo che la Madonna stessa ci ha manifestato a Fatima infine il mio cuore immacolato trionferà è la vocazione di chi all'interno di un chiostro nelle piazze pubbliche con la preghiera la penitenza gli iscritti la parola l'azione combatte per la realizzazione di questa promessa il trionfo del cuore immacolato di Maria è anche il trionfo della Chiesa perché il cuore immacolato di Maria è il cuore stesso della Chiesa il trionfo presuppone una grande battaglia che lo precede eccoci amici battaglia martirio testimonianza e poiché questo trionfo sarà sociale pubblico solenne anche questa battaglia sarà sociale pubblica e solenne essere santi oggi significa combattere questa battaglia che si combatte innanzitutto impugnando la spada della verità e ricordate tutti i messaggi nostra signora di Anguera soprattutto rimanete con la verità testimoniate la verità proclamate la verità difendete la verità vedete che c'è una sintonia mirabile riprendo con il professor De Mattei è solo sulla verità che si può costruire la vita degli uomini e dei popoli senza la verità una società si decompone e muore oggi la società cristiana deve essere rifatta e per rifarla la prima necessità che si impone è quella di professare e vivere la verità con spirito militante quando un cristiano con l'aiuto della grazia conforma la propria vita ai principi del Vangelo e combatte per difendere la verità non può essere arrestato da nessun ostacolo nel suo discorso del 21 gennaio 1945 alle congregazioni mariane di Roma Pio XII il venerabile il pastor Angelicos afferma il tempo presente esige cattolici senza paura per i quali sia cosa del tutto naturale il confessare apertamente la loro fede con le parole e con gli atti ogni qual volta la legge di Dio e il sentimento dell'onore cristiano lo domandino veri uomini uomini integri fermi e intrepidi quelli i quali non sono tali che a metà il mondo stesso oggi li scarta li respinge e li calpesta Dio e la Chiesa scrive Don Paulien chiedono dei difensori ma dei veri difensori di quelli che mai indietreggeranno di un passo di quelli che sanno essere fedeli e la consegna fino alla morte di quelli che si formano a tutte le severità della disciplina per essere pronti a tutti gli eroismi della lotta conclude De Mattei i giovani del ventunesimo secolo non possono essere attratti dagli inviti al compromesso con il mondo ma chiedono alla Chiesa un appello all'eroismo nel Medioevo alla costruzione di una cattedrale partecipavano architetti muratori fabbri falegnami vescovi principi personaggi illustri e ignoti uniti dal medesimo desiderio di rendere gloria a Dio attraverso le pietre che si elevavano al cielo anche noi partecipiamo a un grande progetto ognuno di noi è chiamato oggi a costruire sulle rovine del mondo moderno l'immensa cattedrale dedicata al cuore immacolato di Maria che non è altro che il suo regno nelle anime e nella società i nostri cuori sono le pietre e la nostra voce annuncia al mondo un sogno che si realizzerà questo articolo è veramente illuminato illuminato e illuminante io vorrei aggiungere una considerazione in ogni caso il cristiano è chiamato ad agire su rovine e su macerie vedete che il medioevo sorse dalle rovine dell'età antica dalle rovine della Roma distrutta la Roma che sembrava immortale la Roma che sembrava divina cadde miseramente crollò miseramente e sulla barbarie prodotta dall'azione anche dei vari popoli barbari che entrarono e devastarono insomma l'Europa Roma l'Italia sorse però la societas medievale la societas medievale con ecco quella quella quell'aspetto visibile delle cattedrali che indicano bene questa quest'opera dell'uomo che si eleva verso Dio per dargli gloria metaforicamente questa grande cattedrale che si eleva verso Dio gli da gloria e ricostruisce meravigliosamente sulle macerie è il regno di Maria il trionfo e il cuore immacolato che deve arrivare quindi non ci sorprendiamo non ci stupiamo non ci impauriamo che stiamo in mezzo a macerie e rovine queste macerie e queste rovine sono simbolizzate dalla visione del terzo segreto come abbiamo letto precedentemente allora riprendo De Mattei spero che abbiate posto attenzione su quelle parole che leggevamo all'inizio come dunque preparare questo questo regno di Maria come rispondere alla vocazione della nostra epoca diceva De Mattei la vocazione di chi all'interno di un chiostro nelle piazze pubbliche con la prighiera la penitenza gli iscritti la parola l'azione combatte per la realizzazione di questa promessa esiste dunque una multiformità una pluralità di possibilità tutte queste vie preparano il trionfo tutte queste vie sono raccomandabili ma non tutti sono chiamati a fare la medesima cosa eppure c'è una vocazione comune una che accomuna tutti i singoli che possono agire in maniera diversa chi con la parola chi più con la preghiera chi con la vita domestica santificata dalle virtù le vocazioni in questo senso sono singolari ma ce n'è una comune il martirio cari amici il martirio che può avere varie forme ma è il martirio del cuore quanto meno il martirio dell'anima il martirio di quelli che davanti a tutto quello che succede non riescono a dire vabbè pazienza non riescono a dire vabbè pazienza ma dicono che dolore atroce che dolore atroce questo martirio quantomeno questo accomuna tutti che poi dopo debba concretizzarsi in forme diverse più o meno sanguinose questo dipende dalla provvidenza di Dio noi ricordiamoci di questi due aspetti in questo 2020 il martirio la testimonianza da una parte perché possiamo iniettare questo flusso di potenza sulla terra nella chiesa affrettando l'intervento di Dio per il trionfo del cuore immacolato e poi la nostra vocazione la vocazione della nostra epoca in un certo senso siamo fratellati siamo accomunati da una vocazione comune che ci rende quindi più solidali ci dovrebbe quasi rendere un unico spirito un unico cuore un unica anima perché abbiamo la stessa vocazione l'ultima nota che voglio dirvi come poter vivere al meglio questa vocazione che del resto è Mariana perché bisogna preparare il regno di Maria consacriamoci a lei consacriamoci a lei e ancora una volta io segnalerò in descrizione il link a un corso completo di preparazione alla consacrazione al cuore immacolato tanti hanno risposto in questi mesi a questo appello tanti ancora magari non lo sanno non l'hanno sentito io vi invito a rispondere a questo appello da consacrati si vede e si vive tutto in maniera diversa quando si è consacrati a Maria agisce qualcosa di straordinario e quindi questa vocazione questo aspetto sia martiriale che glorioso della nostra vocazione la vocazione della nostra epoca può essere compreso e vissuto al meglio questo mio messaggio cari fratelli e sorelle si conclude qui che Dio benedica ciascuno di voi ciascuno di noi e che questa sua benedizione possa essere efficace e ci dia quella grazia necessaria per poter realizzare tutte queste cose magnifiche ma molto impegnative di cui abbiamo parlato pace e bene in Gesù e Maria